I trend che rivoluzionarono il mondo del lavoro, oltre quelli banali conosciuti da tutti, quindi il ruolo della tecnologia, l'intelligenza artificiale, lo smart working, penso che saranno veramente influenzati dal fatto che le persone si concentreranno sulle cose che rendono uniche le persone, quindi il pensiero cognitivo, la loro capacità relazionale, il riconciliare i dilemmi che si creano nelle organizzazioni giorno per giorno e quindi la capacità di portare la persona al centro nella sua responsabilità anche di risolvere i problemi che abbiamo creato e che continuiamo a creare nel mondo e nel pianeta.